Essere sempre più vicini alla clientela, alle esigenze della clientela di tua, rientra anche in questo obiettivo il nuovo sistema che avete presentato questa mattina in conferenza stampa? Assolutamente sì, il CRM è un sistema di controllo e verifica che ha l'obiettivo di avvicinare sempre di più l'utenza all'azienda, quindi attraverso questi sistemi noi ci apriamo molto di più all'ascolto e canalizziamo e processiamo tutte quelle istanze che vengono inviate nella nostra azienda per poter analizzare ed essere più tempestivi nella risoluzione dei vari problemi che ci si presentano quotidianamente. Diceva in conferenza stampa la digitalizzazione non è una cosa del futuro ma è il presente. È verissimo, noi siamo già obbligati ad accelerare questo processo perché la digitalizzazione è già nel presente, le aziende di trasporti in particolare la devono adottare, devono seguire certi percorsi perché solo facendo così noi possiamo ottimizzare la nostra gestione, analizzare meglio le problematiche, allocare meglio le risorse ma soprattutto essere più precisi a gestire il particolare. Qui gestiamo quotidianamente tantissime corse, tante sono le cose che ci vengono rappresentate ogni giorno, è importante analizzare in maniera puntuale tutti i processi ma soprattutto processare queste dinamiche, altrimenti si disperde ricchezza, cioè l'informazione. Vedi anche presentato un nuovo numero a cui rivolgersi per quanto concerne la clientela? Sì c'è un numero verde nuovo ma nel frattempo vengono mantenuti anche tutti gli strumenti tradizionali, l'utente da domani potrà rapportarsi con Tua attraverso diversi canali che rispecchiano le esigenze di tutti, dai più tradizionali ai più innovativi, penso ai giovani, quindi stiamo fornendo uno strumento che permette di allargare la capacità di comunicazione nostra nei confronti del cliente. Per chi è rimasto legato a strumenti più tradizionali tipo il telefono per esempio c'è ancora la possibilità di contattare. La cosa che cambierà da domani è che tutte queste informazioni, anche se arrivassero attraverso l'email, vengono canalizzate in un unico circuito.